Guardia Costiere in azione in occasione delle festività natalizie. Per garantire sulla tavola dei cittadini prodotti ittici di qualità, il ministro delle politiche agricole e alimentari forestali e del turismo, senatore Gianmarco Centinaio, ha chiesto uno sforzo supplementare agli uomini e donne della Guardia Costiera, disponendo l'operazione confine illegale a tutela dei consumatori, degli operatori onesti del settore del Made in Italy. L'operazione che ha avuto inizio a fine novembre si concluderà il 30 dicembre, ha coinvolto circa 80 militari della Capitaneria di Porto di Barletta. A Biceglie, presso due aziende di vendita all'ingrosso di prodotti ittici operanti nella zona industriale, è stata accertata la violazione di norme in materia di tracciabilità e si è proceduto al sequestro di oltre 4 tonnellate di prodotto ittico, con sanzioni amministrative per un totale di 27 mila euro. Tra Biceglie e Trani, durante un'attività di controllo sui mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici, molluschi bivalvi, è stato individuato, fermato e sottoposto a ispezione un auto articolato con targa bulgara, che risultava carico di circa 8 tonnellate di prodotto ittico di varie specie e taglie. Carente di documentazione testante alla tracciabilità è proveniente da una ditta con sede a Brindisi. Il prodotto è stato interamente sequestrato ed è stato elevato un verbale di 1500 euro. A Barletta, infine, nel corso di ulteriori controlli su una sospetta attività illecita di vendita al dettaglio ubicate in via a Fiera Mosca, è stato ritrovato un cittadino barlettano intento alla vendita che, nel momento in cui i militari della Capitaneria si sono qualificati, ha immediatamente chiuso il locale dove effettuava la vendita illecita, intralciando l'attività di controllo e dileguandosi. Su autorizzazione dalla Procura della Repubblica di Trani è stato autorizzato l'ingresso a mezzo dell'intervento della locale sezione dei Vigili del Fuoco per consentire ai militari l'accesso locale e poter procedere all'ispezione dello stesso. All'interno del locale sono stati ritrovati circa 200 kg di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione, in parte fresco e in parte congelato. Il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica e sono state elevate sanzioni per un importo di circa 4.500 euro.